40 anni di vita alle spalle e la volontà di porsi verso il futuro in maniera sempre più competitiva. Per il porto turistico del Lido di Esolo il 2020 sarà un anno di grandi trasformazioni, altrettanto importanti dei primi anni 2000, quando la struttura subì una profonda ristrutturazione e un ampliamento. I prossimi passi, quelli delineati dal master plan presentato al porto turistico, prestano grande attenzione soprattutto ai servizi. Il primo step che andremo a cominciare proprio questi giorni è la ristrutturazione della parte cantieristica con un ampliamento di un cappannone con fotovoltaico, quindi anche un'attenzione all'ambiente e al risparmio energetico e una riqualificazione di tutta l'area di rimessaggio a terra. La seconda parte interesserà il centro servizi che sarà un bar ristorante, un centro di aggregazione e un centro fitness. Questo dovrebbe praticamente realizzarsi entro il 2020, quindi consegno 2020. Il porto Iesolano, divenuto di recente infopoint della Regione Veneto per l'accoglienza e la sistemazione turistica per l'area nord della laguna veneziana, verrà dotato inoltre di nuove colonnine di ricarica elettrica. Serviranno alle imbarcazioni e alle auto, ma pure alle biciclette a pedalata assistita, noleggiabili in uno dei nuovi plessi che sorgeranno a breve. Un restyling giudicato appetibile dal comparto nautico. Uno dei principali gruppi di costruttori di barche di lusso ha scelto proprio Iesolo come sede principale per la propria attività. Il porto turistico di Iesolo ha l'infrastruttura necessaria per fare ciò. È una posizione per noi fondamentale e strategica in pieno nord-est, a un'ora dall'aeroporto vicino a Venezia e dalle coste croate che attira sia una clientela nazionale che internazionale, basti pensare all'Austria o alla Germania. Clienti che amano la comodità assoluta, testimoniata da uno yacht che ha ospitato parte della presentazione dei lavori. Un gioiello di 28 metri dotato di 8 cabine e 6 bagni, di una suite e un garage per il tender. Ma quando il tender è in acqua e il garage resta aperto, la zona diventa un beach club. Un bel sogno che con 8 milioni di euro diventa realtà.